Oggi è importante la presenza dell'assessore qua al Parco Roia perché ha voluto rendersi conto di persona, di quelle che possono essere le future potenzialità di quest'area, ma soprattutto di quelle che sono le momentanee carrenze dovute alla presenza di migranti del Parco Roia gestito dalla Croce Rossa perché i gestori del Parco hanno detto che durante tutte le ore del giorno e della notte questi migranti cercano di salire sui treni, treni che oltretutto trasportano anche materiale pericoloso per riuscire ad andare in Francia. È chiaro che situazioni di questo tipo di degrado e di pericolo non attragono certo investitori, quindi la presenza dell'assessore oggi è dovuta principalmente a questo importante fattore perché in prima persona poi dovrebbe dare le risposte agli imprenditori che gli chiedono se è opportuno investire in quest'area, noi riteniamo di sì e quindi oggi la presenza dell'assessore, ripeto, la riteniamo di fondamentale importanza.